Oh, ciao! Io sono Sydney, sto mettendo un po' in ordine per i miei gemelli. Per loro ho tutte le cose doppie. Il letto è doppio, ho due vasini diversi e anche il passeggino e a due posti. Oh, bravi! Avete finito di lavarvi. Per i miei gemelli io ho anche due tovaglie, una per te e una per te. Benissimo, adesso andiamo a prendere il gelato. In viva il gelato! Mettiamoci nel passeggino. Lalla e Gigi. Vieni con noi a prendere il gelato. Oh, eccoci qua! Guardate che bel carretto dei gelati! Che bello! E non ho solo i gelati! Allora, che gelato volete? Io lo vorrei alla vaniglia. E tu, Lalla, quale vuoi? E io lo voglio al cioccolato. Benissimo! Uno alla vaniglia, uno al cioccolato. Buon appetito! Buono! Grazie! Che cosa volete fare adesso? Vogliamo giocare a vendere i gelati! Sì, vogliamo giocare a vendere i gelati! Oh, io so dove vi devo portare! Vieni con noi! Gnufu! Ahahahah! Da-dan! Ecco il nostro carrello dei gelati. Lo dobbiamo solo montare. Wow! Lo monto io? No, io! No, prima io e poi al massimo tu mi dai una mano. No, lo voglio montare io da sola. Ma perché? Per questo! Io lo sapevo che andava a finire così. Per questo mi sono premunita. Per i gemelli ho sempre le cose doppie. E quindi, ho un altro carrello dei gelati. Wow! Oh! Che bello! Facciamo così. Questo carrello dei gelati lo lasciamo a Lalla. Sei d'accordo, Lalla? Sì, va bene. E invece, questo qui, lo apriamo e ci giocherà Gigi. Va bene? Va bene. Vediamo che cosa c'è dentro. Montiamolo subito. Rovesciamo tutto il contenuto. Oh, quanti pezzi! Vai, vai, faccio da solo. E va bene. Mentre Gigi fa le sue cose, io aiuto Lalla. E adesso l'ombrello. Il carrellino di Lalla è pronto. Adesso dobbiamo metterci i gelati. Mettiamo i ghiaccioli. Ok. Uno. Due. E tre. Poi prendiamo questi lecca-lecca. Li mettiamo qui. Ci sono rimasti solo i coni gelato. Questo va qui. Gigi. Fatto. Venite a comprare il gelato di Lalla. Yeah! Sì! Andiamo a vedere come sta messo Gigi. Gigi. Tutto a posto. Non sapevo come si monta e quindi mi sono messo a mangiare. Ai ai ai, Gigi. Ti serve proprio una mano. Io e Lalla ti aiutiamo. Questo pezzo va qui. Oh, grazie. Vicino a questi attacchiamo le ruote. Brum, brum, brum. Una macchina. Brum, 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 brum. Aspetta, non abbiamo finito. Guarda com'è il mio carello, l'ombrello. Oh, capito. Eh sì, Gigi. Guarda. Prima così. Lo mettiamo qui. E poi ci mettiamo l'ombrello sopra. Così. Oh, com'è grande. E adesso facciamo il manico. E adesso, Gigi, puoi fare brum, brum, brum. Brum, 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 brum. E i gelati non te li sei dimenticati. Ah, già. Questi qui vanno qui. I ghiaccioli vanno qui. Ecco qua. Oh, che bello. Adesso puoi vendere il gelato di Gigi. E adesso fatemi un po' provare. Un gelato di Lalla e un gelato di Gigi. Mmm. Mmm. Che buoni. Mmm. Mi piace giocare a vendere i gelati. Anch'io mi sono divertita tantissimo. Di un po'. Qual è il tuo gusto preferito di gelato? Mi raccomando, iscriviti al canale per non perderti le prossime storie e i prossimi giochi di Gigi e Lallina. Ciao. 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 No, no. Qui c'è solo il pollo e una banana. Guarda bene. Ci deve essere qualcosa? Mmm. No. No. Ci sono le salsicce. C'è il limone. Non c'è. Fai guardare anche a me. Mmm. La zuppa, le verdure, ma non c'è niente di buono. Gigi, Lalla, che cosa ero vi state nel frigorifero? Eh, me lo volevamo fare uno spuntino, ma non abbiamo trovato niente. Ma come non avete trovato niente? qui c'è un frigorifero pieno. È vero, però noi volevamo il gelato. Capito. Il gelato in frigorifero non c'è, però possiamo prepararlo da soli. davvero? E con che cosa si fa il gelato? È una bella domanda. Tu, lo sai con che cosa si fa il gelato? Si fa con il latte. Esatto. E dove si può prendere il latte? Dalla mucca. Esatto. Perciò adesso tutti insieme andiamo alla fattoria. Ma prima chiudiamo il frigorifero. facciamo un giro in un passeggino? Lalla e Gigi Andiamo! Ecco la mucca! Andiamo a chiederle il latte. Buongiorno, signora mucca! Mmm, buongiorno! Buongiorno, buongiorno! Buongiorno, buongiorno! Signora mucca, i miei bambini vorrebbero tanto il gelato. Ci servirebbe un po' di latte, per favore. Dobbiamo i miei bambini! Certo, vi aiuto io. Un secchio è abbastanza! Un secchio è più che sufficiente. grazie! di niente! ecco fatto! la mucca ci ha dato un intero secchio di latte ma di che colore lo facciamo il gelato? allurro o rosa? il colore del gelato dipende dalla frutta che useremo! andiamo nell'orto a vedere che frutta c'è il ribes e la fragola! il ribes e la fragola sono degli ottimi gusti per il gelato! ecco qua! con il ribes faremo il gelato azzurro e con la fragola il gelato rosa! evviva! che buono che sarà! andiamo subito a prepararlo! che bello avere una fattoria vicino casa! eccoci qua! non vedo l'ora di preparare il gelato per prima cosa mettiamo nel mixer il latte la la! che gusto di gelato vuoi? alla ribes o alla fragola? alla fragola per favore! perfetto! versiamo nel mixer un po' di latte aggiungiamo un po' di fragole e mescoliamo tutto! la crema per il gelato alla fragola è pronta! mmmm! odora che buon profumo! mmm che buono! voglio mangiarlo subito! aspetta aspetta aspetta! prima dobbiamo metterlo nella macchina del gelato carichiamo il gelato! prendiamo il bicchiere mmmm! schiacciamo il gelato il nostro gelato alla fragola è pronto! mmmm! che bello! fammelo al ribes per favore! un gelato per questo giovanotto! uuuuuh! aggiungiamo il ribes mescoliamo! mix con il gelato è pronto! carichiamo nella macchina quale bicchiere vuoi Gigi? quello rosa o quello arancione? quello rosa! ottima scelta! il gelato è pronto! ecco qua! quello al ribes per Gigi e quello rosa per Lalla per Lalla e per Gigi! buon appetito ragazzi! mmmm! che buono! grazie Silvi! mmmm! con il ribes è davvero delizioso! grazie! mmmm! proprio contenta che vi piaccia! e qual è il tuo gusto di gelato preferito? a me piace tanto il gelato al cioccolato! me lo preparo subito! ciao! ciao! a